Il mondo dei sogni Che mi sta succedendo? La risposta te la devi cercare e la domanda è il nostro chiodo fisso Che cos'è Matrix? Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità Quale verità? Loro ci osservano Gli esseri umani sono un morbo Voi siete un cancro per questo pianeta E noi Siamo la cura Portami via, presto! Benvenuto nel mondo reale Insomma sei qui per salvare il mondo Che ti serve? Armi? Tante armi? Nessuno aveva mai fatto una cosa del genere Per questo avrò successo Allacciati la cintura Alice Perché da adesso di meraviglie ne vedrai Per questo avrò successo Trattatato Xemolo Ma Estratato Schiva questa. Purtroppo, nessuno può sapere che cos'è Nightwrex. Potrai scoprirlo da solo. Grazie.